Presidente, è Natale anche per noi? Lo recita il manifesto dell'EMPA, è Natale anche per queste splendide bestiole? Certamente, è Natale anche per noi significa, sono i cani che parlano, i gatti che parlano e dicono è Natale anche per noi. Questo è un esempio, questo cicciolino qua era al canile, adesso è stato adottato e come tutti i nostri animaletti sono felici e contenti quando sono in canile, ma ancora di più quando sono fuori. Il Natale significa, pensiamo anche a loro, hanno bisogno di noi, non abusiamo di loro, non pensiamo che possano essere semplicemente un regalo di Natale. Una giornata intera qua alla Riviera Shoppil, cosa farete durante la giornata? Già questa mattina è iniziata una raccolta fondi, una raccolta cibo ed è iniziato il tesseramento per l'anno 2017. Nel pomeriggio poi ci saranno manifestazioni per i bambini con il truccabimbi, ci sarà la merenda, ci saranno tante cose, porteremo i cani del canile e faremo un po' di educazione. Così come dice anche il nostro manifesto, faremo educazione soprattutto per far capire ai bambini come ci si comporta con gli animali, sperando sempre che si affezionino gli animali ma che non li considerano un mero giocattolo. Questa è una dei tanti appuntamenti dell'EMPA di Sanremo della provincia di Impera, ma ricordiamo in tutta Italia naturalmente, perché il vostro lavoro è sempre presente, 365 giorni l'anno. Beh assolutamente, penso che ce ne sia bisogno comunque, noi non possiamo stare chiusi in un rifugio, ma dobbiamo andare in mezzo alla gente, far vedere che cosa stiamo facendo, far vedere di che cosa veramente abbiamo bisogno. Non è finita qua perché ancora a dicembre, ancora per la fine dell'anno ci saranno altre manifestazioni a Sanremo e comunque nel nostro territorio. Speriamo di far piacere anche alla gente.